12 cacciatori di frodo, tutti maltesi in procinto di imbarcarsi per l'isola dei Cavalieri, sono stati intercettati e denunciati alla guerra di finanza durante un controllo mirato al contrasto di traffici illeciti. Alcuni di loro sono stati trovati in possesso di salvagina abbattuta, riconducibile a specie di animali protette, altri erano sprovviste al regolare porto d'armi e altri ancora in possesso di strumentazione come puntatori laser e richiama acustici per uccelle e fari notturni, quest'ultimi vietati per la caccia. I 12 sono stati quindi denunciati all'autorità giudiziaria e con le armi che sono state sequestrate, unitamente a diverse decine di esemplari di volati e abbattuti, in quanto riconducibili ad un'attività condotta in maniera assolutamente illecita. E non è la prima volta che persone arrivate da Malte attirate dalla composizione faunistica del territorio siciliano e i blei in particolare vengono a praticare attività venatorie, solo che la praticano in maniera assolutamente iscriminata e illecita.